come fare 10 per con le altcoin lo vediamo in questo video se mi segui da un po sul canale sai probabilmente che non mi piace dire su quali coin esporsi non mi piace buttare lì previsioni dicendo questa coin farà 10 per la prossima coin 100 per come fanno purtroppo tanti altri colleghi quindi in questo video voglio rispondere alle domande proprio su questo tema e andare ad approfondire ulteriormente il concetto delle altcoin per fare un pochino di chiarezza perché ci sono tanti miti da sfatare e tante cose da guardare per potersi porre in modo realmente profittevole sul mercato altcoin prima premessa il mercato al coin è pura speculazione quindi se ci esponiamo al mercato al coin dobbiamo essere consapevoli degli alti rischi dell'alta volatilità e del fatto che stiamo di fatto scommettendo sul mercato poi che questo mercato tenda in determinate condizioni a seguire bitcoin quello è un altro paio di maniche personalmente mi espongo sul mercato cripto in generale long term su bitcoin short term sulle altcoin quindi la maggior parte di altcoin al netto magari di eth tutte le altre coin per quanto mi riguarda sono pura speculazione di breve termine cosa significa significa che le acquisto un po di mesi prima dell'alving e le vado a rivendere se mi fanno profitto durante i rally diciamo nella fase pre alving bene mi incasso dei profitti sono contento chiudo se c'è l'occasione poi di ricomprarle perché il prezzo scende mi riposiziono ma tendenzialmente quando ci sono i rally ci sono anche i ritracciamenti quindi mi vado a riposizionare poi quando vado a venderle vado a vendere nella fase di al season quando tutti i prezzi sono gonfiati quando tutti corrono impazziti per prendere l'ultima altcoin e fare il 100 per lì vado a chiudere tutte le mie posizioni totalmente porto fieno in cascina mi parcheggio liquidi che poi vado a distribuire su che cosa vado a distribuire sugli asset secondo me di valore nel lungo termine quindi mi tengo qualcosa per bitcoin nel momento in cui ritraccerà nella fase post alving come ha sempre fatto vado a rimpinguare i miei piani d'accumulo vado a spostare anche qualcosa sulle azioni quindi mi vado a muovere in questo modo uso le altcoin puramente per speculare e fare soldi niente di più detto ciò andiamo un attimo a comprendere un paio di cose perché tendenzialmente quando ci si posiziona sulle altcoin c'è questa idea del dover fare il 10 per il 100 per e guadagnare un sacco di soldi e quindi ci si posiziona sulle coin che sono poco capitalizzate cosa significa significa che noi possiamo andare a dividere quello che è il mercato altcoin quindi lasciamo da parte bitcoin ed ethereum e anche il tether va bene da qui in poi ci sono tutta una serie di coin che io chiamo le coin da vecchino le coin da pensionati coin che io ho in portafoglio cioè il vecchio bnb solana srp doge toncoin cardano shiba avalanche cioè tutte quelle coin che abbiamo visto e rivisto le coin del passato per intenderci coin che sono altamente capitalizzate ma ragazzi si vede qua capitalizzazione di mercato di bnb la capitalizzazione di mercato di solana quella di ripple doge coin e così via vediamo delle capitalizzazioni interessate ton in realtà si già c'era in passato sta avendo un po una ribalta adesso in questa fase quindi non la metterei in questa categoria qui in questa categoria ci andrei proprio a mettere solo tipo avalanche tron è anche una di quelle vecchie polkadot il bitcoin cash che non ho mai compreso bene chain link polygon niera anche relativamente vecchiotta litecoin c'è proprio proprio vecchia vecchia come non so cosa il di nuovo uniswap etc chronos cosmos insomma tutte le solite vecchiotte ma le principali comunque le troviamo qua diciamo in top 10 vediamo quelle che sono le principali quelle poi con una capitalizzazione di mercato più grande bene queste coin datate queste coin dinosauro ormai sono delle coin che permettono di fare dei gain importanti probabilmente sì togliamoci dalla testa i 10 per tutte queste robe qua veramente togliamoci della testa adesso andremo a vedere un attimo con qualche piccolo esempio ognuna in modo da comprendere che cosa ci si può aspettare in questo video non voglio mi raccomando darti l'idea del compra questa coin compra quella perché fa 10 per perché fa qui perché fa lì ma voglio passarti più che altro il modo in cui analizzo opero su queste coin e voglio mostrarti qualche piccolo concetto importante lato risk reward potenziale perché non è detto che se io vado a comprare delle coin più piccole farò più soldi ok perché non è detto questo e altra cosa importante in questo mercato come vanno adesso le cose non è neanche detto che farò i soldi che avrei fatto nel mercato precedente quindi nel ciclo precedente anzi a mio avviso è totalmente impossibile è infondata la cosa quindi chi ti dice che farai un sacco di soldi come come i cicli precedenti potenzialmente sì su delle coin nuove ma il mercato è estremamente diverso ricordiamoci che man mano che si va avanti nei cicli quindi man mano che passano gli anni il mercato cripto assume consapevolezza cioè le persone che entrano nel mercato cripto assumono una certa un certo tipo di consapevolezza almeno a grandi linee poi entrano comunque quelli che si approcciamo per le prime volte ci sono tutti i vari degen quelli che si buttano sulle meme a caso va benissimo sono d'accordo ma di fatto man mano che si va avanti uno aumenta l'offerta quindi ci sono sempre più altcoin nel primo ciclo c'è una manciata di altcoin quelle crescevano nel secondo ciclo ce ne erano di più quindi di nuovo la liquidità si va a distribuire in modo diverso no è più distribuita è più diluita e via via man mano che andiamo avanti crescono ci sono sempre più coin di conseguenza liquidità viene distribuita su più coin di conseguenza è più raro vedere tanti progetti che fanno cifre incredibili non vuol dire che non ci saranno abbiamo già visto le cifre molto interessanti nel mercato ai quando con la bolla dell'ai perché di fatto è una bolla però ciò non significa che si possa fare veramente tutti i soldi che si faceva in passato in passato bastava meno liquido per fare più soldi oggi bisogna via via man mano che si va avanti esporsi con sempre più capitali cioè 10.000 euro due cicli fa ti permetteva potenzialmente anche di fare 100k 500k oggi con 10.000 euro se arrivi a 50k è già tanto quindi stiamo parlando di questo cambio qui questo per sfatare il mito del compra queste coin per diventare milionario quindi a meno che tu non ti butti su queste coin con 100k con 200k molto probabilmente milionario non ci diventi comunque al di là di questo volevo giusto far comprendere un paio di cose andiamo a vedere qualche coin esempio apriamoci un bnb vediamo che bnb si trova da inizio anno più 80 per cento siamo ancora o meno 20 per cento rispetto l'all time i ottimo prezzo c'è ci sta è scontata di un 20 per cento c'è anche di meglio ci sono anche cose chiaramente più scontate solana solana ci troviamo ad un più 35 per cento per esempio rispetto all'inizio di quest'anno e siamo ancora o meno 47 per cento rispetto all'all time i se andiamo ad aprirci il grafico di solana diamolo un pochino mettiamo magari ma anche senza le candele non servono mettiamo tutto questa è la situazione attualmente su solana ora obiettivamente su solana il rischio rendimento potenziale non è dei migliori perché perché vediamo che comunque ci troviamo sopra una situazione di media che potrebbe essere indicata come questa quindi questa potrebbe essere la fascia media di solana e tutti quelli che dicono solana mille dollari solana qui solana lì ragazzi può essere ma realmente chi lo sa cioè non possiamo sapere e avere la presunzione di sapere dove andranno i mercati possiamo analizzare la situazione attuale ora solana 128 dollari anche se si trova a un meno 50 per cento perché questo è stato il top 225 quindi più o meno siamo meno 47 per cento dal top dall'all time i anche se ci troviamo in questa fase non vuol dire che andrà a recuperarlo in questa bull run quindi partiamo col presupposto che non è detto che possa effettivamente andare a recuperare questo scarto anche perché significherebbe fare quasi un per due cioè ricordiamoci che meno 50 per cento si traduce in un più 100 per cento che bisogna fare di gain per recuperare questo meno 50 per cento cioè se io sono a 100 dollari scendo di un 50 per cento arriva a 50 dollari ma da per passare da 50 dollari a 100 per cento non devo fare il più 50 per cento di 50 dollari ma devo fare il più 100 per cento quindi un per due devo raddoppiare per tornare su quindi su solana vuol dire che io dovrei fare più o meno un per due ragazzi perché abbiamo visto era un 46 47 per cento quindi fai finta un per due per poter ritornare su questo livello lo potrebbe fare allora presumo che sia più semplice per una coin tipo solana fare un per due per quale motivo perché uno è una solana che conosciamo ormai da tempo quindi è una coin che conosciamo da tempo è vero che c'è tutti i suoi problemi è vero che si blocca due volte su tre però è anche vero che stanno sviluppando tanto è un po il periodo no di solana tra le meme coin tra di nuovo qualcosina sugli nft tra gli exchange i dex come jupiter quindi sta sviluppando livello ecosistema avendo un marketing molto aggressivo molto ben fatto e avendo creato una community forte questo porta il prezzo chiaramente a tener botta e salire ovviamente chi come me si è posizionato su solana quando siamo arrivati più o meno in quest'area cioè io mi sono posizionato se non vado errato tra i 20 25 dollari qui a parte che ho già preso profitto ho già venduto in quote man mano che saliva perché come ho detto mi muovo in speculazione sulle altcoin quindi non me ne frega niente se se sono in alzison cioè se questo è il punto medio me lo va a superare mi va a crescere con delle percentuali importanti sul portafoglio e chiudo prendo tutto baracca burattini me ne vado ok funziona così comunque sia questa è la situazione solana non presenta chissà quale rischio rendimento vantaggioso abbiamo un per due potenziale davanti ma abbiamo anche dall'altra parte per tornare di nuovo ai livelli precedenti vediamo un rischio rendimento in questo caso un per due se vado in su e invece se vado in giù anche un per tre in giù quindi non è un rischio rendimento sensato questo è quello che vado a fare generalmente io poi ripeto bisogna mettere sulla bilancia anche come funziona l'ecosistema che sta sviluppando e sta innovando molto meglio sicuramente rispetto un bnb che vado a guardare subito e che è comunque strettamente correlato no lo lasciamo perdere logaritmi che comunque strettamente correlato a binance ovviamente se vado a mostrarti questo ora bnb con tutto il bene che li possiamo volere ma obiettivamente vediamo che un prezzo medio è stato più o meno questo ci troviamo praticamente sugli all time i quindi un rischio rendimento in questa fase dicendo ma bnb arriverà a un k è ok sì chi lo sa abbiamo comunque anche fosse così è anche arrivasse un k abbiamo un per due da un lato e dall'altro però possiamo tornare a 200 dollari quindi abbiamo anche un per due anzi un diviso due al contrario no anche qui il rischio rendimento non è dei migliori poi andiamo indietro andiamoci a vedere sempre nelle maggiori xrp xrp non è non sono un fan si trova a meno 86 per cento degli all time i non sono un grande fan di xrp premesso non lo sono mai stato la reputo abbastanza inutile vediamo che grosso modo però xrp si trova dove si trova vicino gli all time low quindi si trova verso i suoi minimi ha fatto qualche sparata ma comunque sta oscillando intorno ai suoi minimi potrebbe essere una coin che magari qui ritorna piano piano quindi significa che ci troviamo a 0 48 potrebbe tornare intorno agli 0 79 quindi da 0 48 fai a 0 79 potrebbe essere fattibile potrebbe farlo poi magari fa anche di più è per carità poi torna un dollare 50 questo lo vedo relativamente difficile questo magari è un po più probabile questo non dico sicuro perché di sicuro non c'è niente però può tornare in al season ora in questa fase da 0 48 a 0 79 c'è quasi 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 un per due d'altra parte che cosa ho ho un minimo più o meno in quest'area intorno agli 0 2 0 3 quindi anche qui abbiamo quasi un diviso 2 però vediamo che le prospettive di crescita sono per 1 0 79 quindi un per due o potenzialmente un dollare 50 quindi ulteriori qui abbiamo un rischio rendimento un pochino più vantaggioso perché comunque ci troviamo nei pressi del bottom e questo può essere interessante dogecoin non la guardo abbiate pazienza toncoin a meno 30 per cento dal dall'all time high ma siamo comunque a un più 132 per cento qui si va più in price discovery mi sa che che altro perché andiamo a vedere tutto ci troviamo in questa fase ha fatto già i suoi nuovi massimi ora sta ritracciando ritracciato potrebbe esserci un'ulteriore sparata potenzialmente si stanno facendo un sacco di marketing però vediamo vediamo comunque anche in questo in questo caso sta coin non ha proprio il rischio rendimento perfetto magari può essere interessante andarla a pescare se ci sarà ancora narrativa dietro nel prossimo ciclo cardano cardano fa abbastanza schifo vediamo che è sotto da inizio anno vediamo che quindi rispetto all'inizio anno qua siamo marzo 2023 quindi gennaio più o meno a quest'area vediamo che siamo sotto di un penso un 30 per cento ma adesso andiamo a vedere poi quando torniamo indietro ci troviamo anche con cardano vedi siamo relativamente vicini bottom molto interessante con una prospettiva però interessante di qua ora che cardano torni a colpire i 2 dollari e 50 la vedo dura ma magari vedere un cardano su questo livello quindi andare a recuperare in questo modo quindi tornare intorno al dollaro significherebbe ancora una volta un per due a fronte di un rendimento di un rischio rendimento vediamo questo è il potenziale gain questo il potenziale potenziale loss è vero che poi possono andare ancora più giù possono crollare perché cavolo ne so però in burran tendenzialmente questa cosa qui potrebbe essere verosimile ora qua vediamo che c'è un rischio rendimento interessante e quindi potrebbe essere interessante andare a piazzarsi in queste fasi personalmente ho riacquistato qualcosina in queste fasi dopo che ho scaricato in realtà non dico al top ma comunque in quest'area qua rispetto a quello che ho accumulato in quest'area sono andato a scaricare ora mi sto riposizionando per eventualmente al season andare a scaricare più o meno in quest'area qua quindi più o meno su questi livelli scaricherò una parte qui qualcosa la terrò per quest'altro livello qui dubito che andrà molto più in alto però comunque sia anche se mi arrivasse qui ragazzi sono delle buoni ritorni cioè qua c'è un per tre abbondante se arrivasse di nuovo qua quindi vediamo di nuovo un rischio rendimento sensato poi andiamo un pochino più giù qua ti sto facendo vedere giusto le principali avalanche siamo meno 12 per cento meno 77 dagli oltre mai questo da inizio anno andiamocela a vedere come è strutturata tutto eccoci qua avalanche siamo in una situazione mediana ha fatto un buon recupero anche qui sono andato a dampare alla grande questi sono i bottom siamo relativamente vicino al bottom il top potrebbe magari andare a rifarcelo al recupero di quest'area quindi intorno agli 80 quindi vediamo ancora una volta qua abbiamo un 80 quindi da 30 a 80 quindi direi un per due abbondante e di qua invece risvolto della medaglia tornare intorno ai 15 20 come come bottom ci sta quindi anche qui abbiamo un rischio reward appunto abbastanza sensato e questo lavoro lo si può andare a fare per tante altre cose vediamo polkadot per esempio meno 87 per cento polkadot ci avevo fatto avevo fatto molto bene agli inizi quindi nei precedenti cicli ora ho fatto ben poco però ecco guardando polkadot che ora sembra si sta iniziando a muovere il lato marketing anche se come coin cioè sopra l'ecosistema in polkadot non è che ci sia tanto quindi questo sicuramente fa però vediamo a livello risk reward se non altro a pura titolo di scommessa non si è fatta chissà quale pump negli ultimi diciamo all'ultimo giro di ruota qui nell'ultimo rally ha comunque dimostrato un po di un po di segno diciamo di ritorno verso i 10 dollari questo livello qui può essere una coin che in pieno bull market post halving febbre e tutto il resto possa tornare sui 20 dollari si escludo questa roba qua come escludo questa roba qua ma questa potenzialmente potrebbe rifarla ora 20 dollari da 6 dollari che adesso significa 1 per 3 abbondante rischio dall'altro lato da 10 dollari cos'è qua il minimo il minimo qua siamo intorno ai 3 4 dollari significa un diviso 2 diviso 2 sotto a fronte di un potenziale per 3 sopra questo è un buon rischio rendimento personalmente non mi ci posiziono perché comunque non è una coin che mi fa impazzire a meno che non vogliano sviluppare qualcosina in più però può essere interessante near di nuovo meno 70 e così via internet computer lasciate perdere non guardatela però anche lei può fare sicuramente dei movimenti visto che è sempre stata in realtà in ribasso sta coin però vediamo giusto per a me comunque ha fatto un più 120 per cento una roba del genere però capiamo che c'è poco margine c'è che cazzo guardiamo qua scusate il termine ma è tutto è tutta una morte la morte sua no tutto lì così io personalmente mi ero piazzato qua in questa fase e ho dampato qua quindi sono entrato con un 3 4 dollari e ho venduto totalmente a 17 18 dollari un gain enorme comprata a questo livello perché perché tanto c'era già già rasentava lo zero insomma è stata più una scommessa non sono entrato con chissà quanti soldi poi c'è chi dice sei diventato milionario allora perché hai buttato tutto su lì non ho buttato niente tutto lì su lì o i miei rischi no gestisco i miei rischi in questa fase sui 12 dollari abbiamo da un lato un potenziale ritorno sui 4 dollari magari come fase di bottom dall'altra parte un 20 dollari quindi non è proprio top qui potrebbe tornare sui 28 30 dollari anche allora diventa un po più interessante bisogna vedere come sviluppa certo se sconta ancora un po magari torna intorno ai 7 8 dollari può essere interessante posizionarsi e andare poi a puntare i 20 28 dollari come come potenziale ritorno questa era un pochino una panoramica delle coin principali poi se scorri giù vai a prenderti quelle più piccoline puoi andare a farti il tuo calcolo e comprendere dove arrivano come come sono messe e tutto il resto però era appunto per farti capire il modo in cui vado a guardare con quanto posizionarmi e in che modo su quali coin quindi le altcoin non è che le compro così a caso vado in base al mio portafoglio chiaramente a decidere se è come espormi un'altra cosa importante a considerare è che non è detto che esponendosi sulle coin dinosauro che abbiamo visto che ben che vada ci si può portare a casa un per tre è esagerare quindi non è più abbiamo visto i grafici sparate e apocalittiche verso l'alto oltai mai incredibili questa roba qui secondo me su queste coin almeno non la vediamo poi se la vediamo ben venga però questi risultati così un per due un per tre secondo me è fattibile fare un cento per cento un duecento per cento secondo me non è da buttare cioè parliamone ok quindi non buttiamoci lì e noi do per forza comprare fare dieci per cento per tranquilli relax ci sono c'è tempo diamo tempo al tempo e posizioniamoci facendo quello che possiamo cercando di rischiare il meno possibile quindi posizioniamoci su trade che abbiano un senso non buttiamoci a cazzo di cane veramente ovunque perché tanto è bello e non è neanche detto che sia così profittevole attenzione perché ipotizziamo di avere un per dieci no prendiamo un per dieci e un per tre o un per due stiamo più bassi guarda facciamo così così abbiamo un'idea abbiamo un per due da un lato e un per dieci dall'altro ora chi mi va magari a piazzare qualcosa su un per due come posso essere io che magari ha un portafoglio un po più grande ma prendiamo qualcuno una persona media ok prendiamo una persona media che magari ha diecimila euro che vuole buttare sulle altcoin per speculare cosa fa o va con diecimila euro su un per dieci ma lo farebbe cioè tu obiettivamente con dieci k ti butteresti tutti tutti e dieci su shitcoin a volontà per con l'obiettivo di fare un per dieci con capitalizzazione di mercato sotto i duecento milioni perché vuoi fare appunto il tuo per dieci to the moon eccetera secondo me una persona normale che c'ha dieci k metterà un pochino su bitcoin metterà un pochino su eth e distribuirà un pochino sulle coin principali che è vero che non cresceranno tanto ma logicamente ti faranno dormire un po più la notte e poi qualcosina buttata sulle shitcoin quelle proprio nuovissime che nessuno sa quelle robe lì ok ora ipotizzando una situazione del genere io magari ho dieci k se ho dieci k che voglio investire magari dieci k li vado a mettere qua sopra vado a mettere su un per due e un per due significa che da dieci me ne ritrovo venti su queste coin qua da altissimo rischio la maggior parte di persone se si espone si espone con un k ma un k messo su un per dieci significa che arrivi a dieci k quindi vedi che non è detto che il gioco valga la candela cioè non è detto che se vai a far per dieci per forza supererai un portafoglio più tranquillo vivrai sicuramente notti più insonni vedrai sicuramente mercato che fa su e giù di continuo e ti cagherai addosso ogni tre secondi di qua dormirai leggermente più tranquillo e questa è la risposta che voglio dare a chi mi dice ma come mai tu hai tanti dinosauri relitti nel tuo portafoglio tante vecchie coin per questo motivo qua perché se io ho dei capitali grossi preferisco dormire la notte e farmi un per due piuttosto che andare a rischiarmi tutto per farmi il per dieci ma su coin che non mi fanno dormire la notte quindi da investitore cauto che sono cosa faccio vado a posizionarmi una parte qui in coin che mi possono fare il dieci perce o coin che potenzialmente a fronte di tre k possono portarmi 30 k però o dall'altra parte tante coin che un per due se me lo fanno magari qua ci tiro fuori 200 k che ne so ok quindi bisogna capire come distribuire bisogna essere consapevoli che non è detto che 10 per sia necessariamente migliore di un per due fatto con più soldi quindi è relativo questa era giusto una panoramica per farti comprendere più che altro come analizzo determinate situazioni valuta attentamente come posizionarti lato tuo chiaramente in base al tuo portafoglio in base alla tua solia e rischio in base a tutto quello che vuoi io ti ho portato la mia esperienza scopo didattico sarà poi tua responsabilità ovviamente capire come e dove posizionarti spero con questo video di averti dato in linea di massima un'idea sul come mi posiziono spero di averti dato qualche strumento utile in più per poter analizzare fare le tue analisi nel mercato altcoin fammi sapere cosa ne pensi nei commenti lascia like e iscriviti se ti fa piacere un abbraccio grande e ci vediamo nel prossimo video ciao